Ed ecco il povero Mr. Briggs lì in piedi che ascoltava pazientemente una storia che senz'altro conosceva sin dall'infanzia. Probabilmente stava pensando ad altro ed era quello che lei temeva. Che sventura, che tremenda sventura, la determinazione che si impossessa delle persone spingendole a impadronirsi e a opprimerne altre. Se solo si fosse potuto convincerle a starsene per i fatti loro. Oh perché Mr. Briggs non poteva essere più simile a Lottie che non voleva mai niente da nessuno ma era autosufficiente e rispettava l'integrità degli altri. Era un piacere stare con Lottie. Con lei ci si sentiva libere e tuttavia protette. Anche Mr. Briggs sembrava gentile. Pensò che le sarebbe piaciuto se solo non si fosse innamorato di lei. Scrap si sentì malinconica. Eccola qui, chiusa in quella camera soffocante per essere stata tutto il pomeriggio inondata di sole invece di trovarsi fuori in giardino al fresco. E tutto a causa di Mr. Briggs. Che prepotenza intollerabile, pensò infiammandosi. Non l'avrebbe sopportata. Sarebbe uscita ugualmente. Sarebbe corsa giù per le scale mentre signor Wilkins, quell'uomo era davvero un tesoro, intratteneva Mr. Briggs raccontandogli dell'oleandro e sarebbe uscita di casa dalla porta principale per nascondersi all'ombra del sentiero a zigzag. Lì nessuno avrebbe potuto vederla. A nessuno sarebbe venuto in mente di cercarla in quel posto. Prese uno scialle perché pensava di non rientrare per un bel po' forse neppure per cena. Era colpa di Mr. Briggs se rimaneva affamata e senza cena. E lanciando un'altra occhiata dalla finestra per vedere se lui continuava a restare inoffensivo, sgusciò fuori e andò a rifugiarsi tra gli alberi del sentiero zigzag. E là, sedette su una di quelle panchine poste a ogni curva per confortare chi rimaneva senza fiato durante la salita. Ah, com'era piacevole! Pensò Scrap con un sospiro di sollievo. Com'era fresco e che buon profumo c'era! Vedeva l'acqua tranquilla del porticciolo attraverso i tronchi dei pini e le luci accendersi nelle case sull'altro lato e tutto intorno a lei. Il verde dell'imbrunire era spruzzato da rosa dei gladioli nell'erba e dal bianco dei mucchi di margherite. Ah, che bello! Così quieto! Non si muoveva nulla, non una foglia né un gambo. L'unico rumore era un cane che abbagliava lontano da qualche parte sulle colline. Oppure la porta del ristorantino sulla piazza sottostante che si apriva lasciando uscire un brusio di voce che si spegneva immediatamente appena la porta si richiudeva. Tirò un profondo sospiro di piacere. Ah, questo era proprio! Il suo sospiro si interruppe a metà. Cosa c'era? Si chinò in avanti per ascoltare col corpo teso rumore di passi sul sentiero zigzag o forse Briggs che l'avrebbe scoperta doveva scappare? No, i passi salivano anziché scendere. Qualcuno del villaggio, forse Angelo, con le provviste. Si rilassò di nuovo. Ma i passi non erano quelli di Angelo. Quel giovane, svelto e agile erano lenti e misurati e continuavano a fermarsi. E' qualcuno che non è abituato alle colline, pensò Scrapp. Non le venne in mente di tornare a casa. Niente al mondo la spaventava, tranne l'amore. Briganti o assassini non incutevano timore alla figlia dei Droitwich. avrebbe avuto paura di loro solo nel momento in cui avessero smesso di essere briganti e assassini per cominciare a corteggiarla. Un attimo dopo i passi fecero la curva del tratto di sentiero dove era lei e si fermarono. Prende fiato, pensò Scrapp senza guardare. Poi, siccome lui dai passi capì che appartenevano a un uomo non si muoveva, si voltò e vide con stupore una persona che negli ultimi tempi aveva frequentato assiduamente a Londra il famoso scrittore di divertenti biografie, mister Ferdinand Arundel. Lo fissò. Sebbene nessun espediente usato per seguirla poteva più sorprenderla, rimase tuttavia sorpresa vedendo che gli aveva scoperto dove si trovava. Sua madre aveva promesso di non dirlo a nessuno. Voi? Disse sentendosi tradita. Voi qui? Le si avvicinò e si tolse il cappello. La fronte sotto il cappello era imperlata del sudore di chi non è abituato a camminare in salita. Sembrava si vergognasse e aveva uno sguardo supplichevole come un cane fedele ma colpevole. Oh dovete perdonarmi disse Lady Droitwich. Mi ha detto dove eravate poiché passavo di qua per caso diretto a Roma. Ho pensato di scendere a mezz'ago per farvi un saluto e vedere come stavate. Ma mia madre non vi ha detto che stavo facendo la cura del sonno? Eh sì me l'ha detto ecco perché non ho voluto disturbarvi nelle prime ore del giorno. Ho pensato che probabilmente avreste dormito tutto il giorno e vi sareste svegliata verso quest'ora per mangiare. Ma lo so non ho giustificazioni ma non sono riuscito a trattenermi. Ecco pensò Scrapp il risultato delle insistenze della mamma di invitare degli scrittori a pranzo e del mio mostrarmi più affabile di quanto non sia. Era stata affabile con Ferdinand Herondel. Le piaceva o meglio non le dispiaceva. Sembrava un uomo gioviale e semplice che aveva lo sguardo di un cane affettoso. Inoltre benché fosse evidente che nutriva dell'ammirazione per lei a Londra non l'aveva mai tormentata ma si era comportato come una persona cordiale e innocua che con la sua conversazione piacevole contribuiva a rendere i pranzi più gradevoli. Ora sembrava che la tormentasse anche lui. Osare addirittura seguirla fin qui che assurdità. Nessun altro l'aveva fatto. Forse sua madre gli aveva dato l'indirizzo perché lo riteneva assolutamente innocuo e pensava che lui poteva esserle utile per accompagnarla a casa. Bene, comunque fosse non l'avrebbe senz'altro infastidita quanto un giovane dinamico come Mr. Briggs sentiva che Mr. Briggs infatuato sarebbe stato imprudente, non si sarebbe fermato di fronte a nulla e avrebbe perso la testa pubblicamente. Immaginava Mr. Briggs con scale di corde serenate tutta la notte sotto la sua finestra per quanto fosse difficile e poco pratico. Mr. Arnold non era tipo da compiere gesti sconsiderati. Era vissuto troppo a lungo e troppo bene. Di certo non sapeva cantare e comunque non avrebbe voluto farlo. Doveva avere almeno quarant'anni. Quanti manicaretti mangia un uomo prima di arrivare a quarant'anni? E se per tutti quegli anni invece di fare ginnastica se ne sta seduto a scrivere libri acquisisce inevitabilmente lo stesso fisico di Mr. Arondale, un fisico più adatto alla conversazione che all'avventura. Scrapp, che alla vista di Briggs era divenuta malinconica, vedendo Arondale divenne meditativa. Eccolo lì. Non avrebbe potuto mandarlo via prima di cena. Doveva nutrirlo. Stando così le cose conveniva approfittarne al meglio e farlo con grazia, come d'altronde non poteva evitare. Inoltre lui l'avrebbe protetta temporaneamente da Mr. Briggs. Se non altro conosceva Ferdinand Arondale e poteva avere da lui notizie di sua madre, dei suoi amici e a cena quella conversazione avrebbe costituito una barriera difensiva tra lei e gli approcci dell'altro. E rimaneva per una cena soltanto. Mica poteva mangiarla. Decise quindi di essere cordiale. La cena, disse ignorando la sua ultima battuta, è alle otto. Venite anche voi. E adesso sedetevi qui al fresco e ditemi come stanno tutti. Oh, posso davvero cenare con voi? In questi abiti da viaggio? Disse asciugandosi la fronte prima di sedersi accanto a lei. Era troppo bella, per essere vera, pensò. Solo guardarla per un'ora e sentire la sua voce lo ripagava del suo viaggio e dei suoi timori. Certo, immagino che abbiate lasciato la carrozza in paese e che proseguiate da Mezzago con il treno della notte. Oppure starò in albergo a Mezzago e proseguirò domani, ma ditemi di voi, disse guardando il suo curabile profilo. Londra era esageratamente vuota e noiosa. Lady Droitwich mi ha detto che eravate qui con persone che non conoscevo. Spero che siano state gentili con voi. Beh, dal vostro aspetto si direbbe che la cura ha avuto il suo effetto. Oh, sono tutte molto gentili, disse Scrap. Le ho trovate attraverso un annuncio. Un annuncio? Penso che sia un buon sistema per trovare amici. Sono affezionata a una di loro come da anni, non lo ero a nessuno. Davvero? E chi è? Oh, dovreste essere voi a indovinarlo quando le vedrete. Raccontatemi di mia madre. Quando l'avete vista l'ultima volta? Abbiamo deciso di non scriverci, a meno che non ci fosse stato qualcosa di particolare. Volevo trascorrere un mese assolutamente isolata. Oh, e invece io sono venuto a disturbarvi. Non posso dirvi quanto mi vergogno, sia per averlo fatto, sia per non essere riuscito a evitarlo. Oh, ma, disse subito Scrap, perché non avrebbe potuto scegliere un giorno migliore per arrivare, quando lassù, in agguato e pronto a darle la caccia, c'era l'innamorato Briggs. Sono davvero contenta di vedervi. Raccontatemi di mia madre. Capitolo 20. Scrap voleva sapere così tante cose di sua madre che Erondale dovette inventarsele. Avrebbe parlato di qualsiasi cosa le facesse piacere pur di stare un po' con lei, pur di vederla e di ascoltarla, ma in verità sapeva molto poco dei Droitwich e dei loro amici. Al di là degli incontri in occasione di quelle importanti cerimonie dove anche i letterati erano presenti, e oltre ad averli divertiti a pranzi e cene, sapeva assai poco di loro. Per loro era sempre rimasto Mr. Erondale. Nessuno lo chiamava Ferdinand. Ed egli conosceva solo gli stessi pettegolezzi che apparivano sui giornali della sera e che circolavano tra i frequentatori dei club. Tuttavia era bravo a inventare, e appena esaurì le notizie di prima mano, pur di rispondere alle sue domande e trattenerle lì con lui, cominciò a inventare. Era facile collegare alcune cose divertenti che aveva in mente ad altre persone, facendo finta che le riguardassero. Scrap, che nutriva per i suoi genitori quel tipo di affetto che si fa più forte con la lontananza, era avida di notizie e più lui raccontava più lei mostrava interesse. All'inizio erano notizie banali. Aveva incontrato sua madre qui, l'aveva vista là, stava molto bene, diceva questo e diceva quello. Ma presto le cose che aveva detto Lady Droitwich assunsero una qualità insolita, divennero divertenti. La mamma ha detto quello? Lo interruppe Scrap a sorpresa e subito Lady Droitwich iniziò a fare cose divertenti oltre che a dirle. È stata davvero la mamma? domandò Scrap con gli occhi sgranati. Herondale si appassionò nell'impresa, attribuì a Lady Droitwich alcune delle idee più divertenti che gli erano venute in mente negli ultimi tempi e anche altre cose buffe e piacevoli che erano state fatte o così aveva immaginato perché gli veniva in mente di tutto. Scrap sgranò ancora di più gli occhi per lo stupore e l'orgoglio affettuoso che nutriva per la madre. Ma che madre buffa e fantasiosa! Che simpatica vecchia signora! Aveva davvero fatto quello? Oh come era adorabile! E aveva davvero detto così? È incredibile che le sia venuto in mente. E che espressione aveva fatto Lloyd George? Lei continuò a ridere e le venne una gran voglia di abbracciare sua madre. Intanto il tempo volava, iniziò a imbrunire e divenne quasi buio mentre il signore Herondale seguitava a intrattenerla ed erano quasi le otto meno un quarto quando improvvisamente si ricordò della cena. Oh santo cielo! esclamò saltando in piedi. Sì, è tardi! disse Herondale. Andrò avanti velocemente e manderò una domestica ad attendervi. Devo correre o non riuscirò a essere pronta in tempo e sparì su per il sentiero con l'agilità di una giovane agile cerbiatta. Herondale la seguì. Non voleva arrivare troppo accaldato. Così dovete procedere lentamente. Per fortuna non era lontano dalla cima e Francesca scese sotto la pergola per guidarlo in casa e dopo avergli mostrato dove lavarsi lo fece accomodare nel salone vuoto affinché si riposasse accanto al fuoco crepitante. Lui si spostò il più lontano possibile dal fuoco e si mise in uno di quei profondi vani delle finestre a guardare le luci lontane di mezzago. La porta del salone era aperta e la casa era immersa nella quiete che precede la cena quando gli abitanti sono tutti chiusi in camera a vestirsi. Briggs nella sua stanza scartava una dopo l'altra le sue cravate tutte sciupate. Screpe nella sua si infilava rapidamente un abito nero con la vaga idea che il nero avrebbe impedito a Mr. Briggs di vederla bene. La signora Fisher fermava lo scialle di pizzo che ogni sera trasformava il suo abito da giorno in un abito elegante con la spilla che Ruskin le aveva regalato per il suo matrimonio formata da due piccoli gigli di perle legati insieme da un nastro di smalto blu con le parole esto perpetua scritte a lettere d'oro. Il signor Wilkins seduto sul bordo del letto spazzolava i capelli della moglie. A tal punto era giunta la sua affettuosità in questa terza settimana mentre lei a sua volta seduta sulla sedia di fronte a lui gli metteva i gemelli in una camicia pulita e Rose già pronta sedeva alla finestra ripensando alla sua giornata. Rose era ben consapevole di ciò che era accaduto a Mr. Briggs e anche non lo fosse stata Lottie l'aveva subito chiarito con i suoi commenti espliciti quando dopo il tè lei e Rose si erano sedute sul muretto. Lottie era felice che a San Salvatore entrasse altro amore sebbene non fosse contraccambiato e disse che appena fosse arrivato il marito di Rose adesso che anche la signora Fisher si era finalmente sciolta. Rose protestò per questa espressione e Lottie replicò che era di kids. Era sicura che non ci sarebbe stato un altro posto al mondo più traboccante di felicità di San Salvatore. Tu marito disse Lottie dondolando i piedi potrebbe arrivare da un momento all'altro sai forse domani sera se parte subito. E i nostri ultimi giorni qui prima di tornare a casa reinvigorite per la vita saranno splendidi. Credo che nessuna di noi sarà più la stessa e non sarei affatto sorpresa se alla fine Caroline si innamorasse di quel giovane Briggs. È nell'aria qui ci si deve innamorare. Rose sedeva alla finestra pensando a queste cose. L'ottimismo di Lottie certo il signor Wilkins lo giustificava senza contare la signora Fisher se solo fosse stato vero anche per Frederick perché se Rose tra l'ora di pranzo il tè aveva smesso di pensare a Frederick adesso nell'intervallo tra il tè e la cena. Lo pensava più intensamente che mai. Quell'intermezzo di ammirazione era stato buffo e delizioso ma naturalmente non poteva continuare. Una volta che Caroline era apparsa Rose sapeva stare al suo posto vedeva bene come chiunque altro la bellezza rara e singolare di Lady Caroline. Come l'aveva fatta sentire bene tuttavia quella stima e quell'ammirazione l'avevano convinta di meritarle davvero di essere diversa e brillante. Era come se avessero portato in vita capacità inaspettate. Sapeva con certezza che tra l'ora di pranzo e il tè era stata una donna divertente addirittura carina. Era certa di essere stata carina. L'aveva visto negli occhi di Mr. Briggs come in uno specchio. Per un attimo pensò era stata come una mosca in letargo che torna a ronzare gaiamente intorno al bagliore del fuoco in una stanza d'inverno. Il solo ricordo la faceva ancora fremere e vibrare. Come era stato divertente avere un ammiratore anche se solo per quell'attimo. Non c'era da meravigliarsi che alla gente piacesse avere degli ammiratori. Chissà come ti riportano alla vita. Benché fosse tutto finito lei ne era ancora animata e si sentiva più allegra e ottimista più come si doveva sentire sempre Lottie meglio di quanto non si fosse mai sentita da quando era ragazza. Si vestì con cura pur sapendo che Mr. Briggs non l'avrebbe più notata e mentre si preparava osservò con piacere quanto potesse farsi bella. Quasi arrivò a infilarsi una camelia cremisi tra i capelli in basso dietro l'orecchio. La tenne per un minuto. Era così attraente da sembrare quasi immorale con quello stesso colore della bocca. Poi se la tolse con un sorriso e sospirando la mise nel posto adatto ai fiori cioè nell'acqua. Non doveva essere sciocca pensò. Doveva pensare ai poveri. Presto sarebbe tornata tra loro e allora che effetto avrebbe fatto una camelia dietro l'orecchio semplicemente assurdo. Ma su una cosa era decisa. La prima cosa che avrebbe fatto appena arrivata a casa sarebbe stato chiarire la questione con Frederick. Ecco quello che avrebbe fatto se lui non fosse venuto a San Salvatore. La prima cosa in assoluto. Avrebbe dovuto farlo molto tempo prima ma quando ci aveva provato era sempre stata ostacolata dall'amore che ancora provava per lui e dal fatto che temeva di aprire nuove ferite nel suo cuore tenero e infelice. Ma ora lui poteva ferirla quanto voleva, quanto poteva. Lei avrebbe chiarito la questione con lui a tutti i costi. Lui non l'aveva mai ferita di proposito. Sapeva che non era mai stato nelle sue intenzioni, che spesso non si rendeva conto di farlo. Rose pensava che per essere uno scrittore Frederick non sembrava avere molta immaginazione. In ogni caso, disse a se stessa, alzandosi dalla toeletta, le cose non potevano andare avanti così. Lei avrebbe risolto la questione. Ne aveva abbastanza di questa vita da separati, di questa solitudine raggelante. Perché non poteva essere felice anche lei? Perché diavolo! questa espressione forte ben si addiceva al sentimento di ribellione che la agitava. Perché diavolo non poteva essere amata anche lei e avere il diritto di amare? Guardò la sua piccola sveglia. Ancora dieci minuti prima di cena. Stanca di starsene in camera sua, pensò di andare sui merli della signora Fisher a quell'ora di certo deserti e di guardare la luna spuntare dal mare. Entrò nell'atrio deserto del piano superiore con questa intenzione, ma passando fu attratta dal fuoco nel salone che brillava attraverso la porta aperta. Come era allegro! Il fuoco trasformava la stanza. Una stanza buia e brutta di giorno appariva trasformata, proprio come lei era stata trasformata dal calore di... No, non doveva essere sciocca. Doveva pensare ai poveri. Ogni volta questo pensiero la riportava alla sobrietà. Sbirciò dentro. Un caminetto acceso e i fiori. E fuori la notte, che sembrava aver appeso una tenda blu alle profonde feritoie. Che bello! Che posto incantevole era San Salvatore. E quel magnifico lillà sul tavolo doveva entrare per affondarci il volto, ma non arrivò mai all'illà. Fece un passo verso di esso e poi rimase immobile perché aveva visto una persona nell'angolo più lontano che guardava dalla finestra. Era Frederick. Tutto il sangue nel corpo di Roslea fluì al cuore. Fu come se il suo battito si fermasse. Frederick! Frederick era venuto! Rimase immobile. Lui non l'aveva sentita, non si era voltato. Rimase ferma a guardarlo. Il miracolo era accaduto ed egli era qui. Rimase ferma trattenendo il respiro. Dunque aveva bisogno di lei. Perché era venuto immediatamente. Dunque anche lui doveva aver pensato, desiderato. Il suo cuore, che sembrava aver smesso di battere, ora la stava soffocando talmente accelerato era il suo battito. Allora Frederick lamava. Doveva amarla. Altrimenti perché sarebbe venuto? Perché? Qualora forse la sua assenza l'aveva spinto verso di lei desideroso. E adesso sarebbe stato facile, molto facile, chiarire tutto con lui, come aveva deciso di fare. I suoi pensieri si erano bloccati. La sua mente vacillò. Non riusciva a pensare. Poteva solo vedere e sentire. Non sapeva come fosse successo a un miracolo. Dio poteva compiere i miracoli. Aveva fatto questo. Dio poteva. Dio poteva. Poteva. La mente vacillò di nuovo e si fermò. Frederick tentò di dire. Ma non le uscì alcun suono. O comunque fu coperto dal crepitare del fuoco. Doveva avvicinarsi. Iniziò ad avanzare timidamente verso di lui, piano piano. Lui non si mosse. Non aveva udito. Lei si avvicinò sempre più. Il fuoco crepitava e lui non sentiva niente. Si fermò un istante incapace di respirare. Aveva paura. E se lui... Oh! Ma era venuto. Era qui. Avanzò ancora vicinissimo a lui. E il cuore le batteva così forte che pensò lui potesse sentirlo. Com'era possibile che non sentisse, che non sapesse. Frederick? Sussurrò, quasi incapace persino di sussurrare, soffocata dal battito del suo cuore. Egli si voltò. Rose? Esclamò, fissandola con sguardo attonito. Ma lei non vide il suo sguardo. Subito lo abbracciò, mentre con la guancia contro la sua mormorava, appoggiando le labbra contro il suo orecchio. Oh! Sapevo, sapevo che saresti venuto nel più profondo del cuore. Ho sempre, sempre saputo che saresti venuto. Capitolo 21. Frederick non era il tipo che avrebbe ferito gli altri se poteva evitarlo. Inoltre, era assolutamente sconcertato. Non solo sua moglie era lì, proprio lì, tra tutti i posti al mondo, ma si stava stringendo a lui, come non faceva da anni, e lo accoglieva mormorando parole d'amore. si aspettava il suo arrivo per accoglierlo così. Per quanto strana fosse la situazione, quella era l'unica cosa chiara. Quella. La morbidezza della sua guancia contro la propria, il suo dolce profumo, da lungo tempo dimenticato. Frederick era sconcertato, ma non essendo il tipo che avrebbe ferito il prossimo, se poteva evitarlo, l'abbracciò anche lui e poi la baciò. E la baciò subito, quasi con la stessa tenerezza con la quale ella baciava lui, e poi altrettanto teneramente, e infine ancora più teneramente, proprio come se non avesse mai smesso di farlo. Era sconcertato, ma sapeva ancora baciare. Sembrava stranamente naturale farlo. Si sentiva come se avesse ancora trent'anni invece di quaranta, e Rose fosse la sua Rose ventenne, la Rose che aveva così tanto adorato prima che cominciasse a valutare ciò che lui faceva con la sua idea del giusto, e la bilancia non gli era stata favorevole. Lei era diventata strana, fredda e sempre più indignata, e così lagnosa. In quei giorni lui non poteva avvicinarsi a lei che non voleva, non poteva capire, continuava a rapportare qualsiasi cosa a ciò che definiva gli occhi di Dio. Agli occhi di Dio ciò non poteva essere giusto, quindi non era giusto. Il suo volto infelice, quali che fossero i suoi principi, certamente non la rendevano felice. Alla fine il suo piccolo volto infelice, contratto nello sforzo di essere paziente, aveva oltrepassato i limiti della sua sopportazione, e lui, per non vederlo più, se n'era allontanato. Non avrebbe dovuto essere la figlia di un pastore anglicano. Lei non era adatta a reggere una tale educazione. Che cosa era accaduto? Perché lei era lì? Perché era di nuovo la sua rosa? Era tutto al di là della sua confrensione, e nel frattempo solo questo gli era chiaro. Lui sapeva ancora baciare, infatti non riusciva a smettere, e adesso era lui che iniziava a sussurrare e a dire parole d'amore all'orecchio di lei, nascosto dai capelli, che avevano un profumo dolce, e lo solleticavano proprio come in passato, mentre la teneva stretta al cuore e sentiva le sue braccia morbide intorno al collo, e gli avvertì una deliziosa sensazione di... all'inizio non capì cosa fosse questo calore delicato e soffuso, poi lo riconobbe come un senso di sicurezza. Sì, sicurezza! Ora non doveva vergognarsi del suo aspetto, non doveva fare battute su di esso in modo da prevenire quelle degli altri, dimostrando che non gli importava. Non doveva vergognarsi di sudare quando camminava in salita, o di tormentarsi pensando all'impressione che faceva sulle donne giovani e belle. Questa sua assurda incapacità di stare lontano da loro era tipica della mezza età. A Rose queste cose non importavano. Con lei si sentiva al sicuro. Per lei lui era il suo innamorato, come un tempo, e non avrebbe mai notato, né le sarebbe importato, di quei tristi segni che il passare degli anni aveva lasciato su di lui e che col tempo sarebbero aumentati. Frederick quindi continuò a baciare sua moglie con foga sempre maggiore e piacere crescente, e il solo fatto di stringerla fra le braccia gli fece dimenticare qualsiasi altra cosa. Come poteva, per esempio, ricordare o pensare a Lady Caroline, per nominare solo una delle difficoltà della sua situazione, quando la sua dolce moglie, miracolosamente ritrovata, era qui, con la sua guancia accanto alla sua, a sussurragli quanto lo amava, quanto lui le era mancato, con le parole più affettuose e romantiche. Per un breve istante, perché anche nei momenti di passione ci sono brevi istanti di lucidità, riconobbe l'immenso potere della donna presente rispetto a quello della donna per quanto bella che non c'è. Ma così soltanto, ricordava Scrap, nient'altro, e la era come un sogno che svanisce prima dell'alba. Quando sei partito? mormorò Rose, la sua bocca sul suo orecchio, non poteva lasciarlo andare neppure per parlare. Ieri mattina, mormorò Frederick tenendola vicino, neppure lui poteva lasciarla andare. Oh, allora subito, mormorò Rose. Queste parole erano enigmatiche, ma Frederick disse sì, subito, e la baciò sul collo. Come stata veloce la mia lettera? mormorò Rose, tenendo gli occhi chiusi per la felicità. Davvero, disse Frederick, che aveva voglia anche lui di chiudere gli occhi, e quindi c'era stata una lettera. Presto, indubbiamente, avrebbe fatto luce su ogni mistero, ma intanto era stranamente dolce e commovente tenere di nuovo la sua Rose stretta al cuore dopo tanti anni, che non si preoccupava di indovinare niente. Oh, in questi anni era stato felice perché non era da lui essere infelice, e per di più quanti interessi gli aveva offerto la vita, quanti amici, successi, quante donne, sempre pronte ad aiutarlo a cancellare il pensiero di quella moglie meschina, cambiata e pietrificata, che a casa non voleva spendere i suoi soldi, era terrorizzata dai suoi libri, si allontanava sempre più da lui, e ogni volta che lui cercava di spiegarsi, gli chiedeva con paziente ostinazione come pensava che apparissero agli occhi di Dio le cose che lui scriveva e grazie alle quali viveva. Nessuno, disse una volta, dovrebbe mai scrivere un libro che a Dio non piacerebbe leggere, su questo bisogna giudicare. Frederick, lui aveva riso istericamente, era scoppiato in una risata, forte e acute, ed era corso fuori casa, lontano da quel suo piccolo volto serio, via da quel suo piccolo volto serio e patetico. E questa stessa Rose gli riportava la sua gioventù, il periodo migliore della sua vita, pieno di sogni e di speranze. Quanto avevano sognato, lui e lei insieme, prima che egli si imbattesse in quella vena di memorie, quanti progetti avevano fatto, quanto avevano riso e come si erano amati. Per un po' erano vissuti davvero in un mondo di poesia. Dopo i giorni felici c'erano state le notti felici, notti di felicità assoluta, con lei che dormiva contro il suo petto e ancora lì quando lui si svegliava al mattino perché quasi non si muovevano nel loro sonno profondo e felice. Era meraviglioso rivivere tutto questo al solo contatto con lei, sentendo il suo viso contro il suo meraviglioso, che la potesse restituirgli la sua gioventù. Oh tesoro, tesoro mio! Egli mormorò sopraffatto dai ricordi, stringendosi a lei, mio adorato, e la sospirò. Che felicità, felicità assoluta! Briggs, arrivando alcuni minuti prima che il gong suonasse, nella speranza che Lady Caroline fosse lì, rimase assai sorpreso. Aveva pensato che Rose Arbotnot fosse vedova e ancora lo pensava, pertanto rimase assai sorpreso. Che mi venga un colpo! Pensò Briggs, chiaro e distinto, perché ciò che vide vicino alla finestra lo fece così trassalire, che per un momento fu distolto dalle sue riflessioni confuse. E avvampando, disse a voce alta, oh, voglio dire, chiedo scusa! E rimase lì esitante, chiedendosi se avesse dovuto tornare in camera sua. Se non avesse detto niente, loro non avrebbero notato che era lì, ma quando chiese scusa, Rose si voltò e lo guardò come si guarda qualcuno, cercando di ricordare chi è. E anche Frederick lo guardò, senza vederlo affatto. Non sembravano infastiditi, pensò Briggs, e neppure minimamente impacciati. Lui non poteva essere suo fratello, nessun fratello avrebbe potuto provocare quell'espressione nel volto di una donna, era davvero imbarazzante. Loro non erano infastiditi, ma lui sì, lo sconvolgeva, sorprendere la sua madonna che si lasciava andare. Questo è uno dei tuoi amici. Dopo un istante Frederick riuscì a chiedere a Rose, che non fece alcun tentativo per presentargli il giovane imbarazzato di fronte a loro, ma continuò a fissarlo con una sorta di astratta, radiosa benevolenza. E Mr. Briggs disse Rose, riconoscendolo, questo è mio marito, aggiunse. E Briggs, stringendogli la mano, ebbe appena il tempo di pensare quanto fosse strano per una vedova avere un marito, prima che suonasse il gong, che Lady Caroline comparisse da un momento all'altro e lui non riuscisse più a pensare, ma solo a diventare un oggetto inanimato, con gli occhi fissi sulla porta. Subito, come in una processione che gli sembrò infinita, da quella porta entrarono prima la signora Fisher, maestosa nel suo sciale di pizzo, da sera, con la spilla, che quando lo vide si sciolse in benevoli sorrisi, per irrigidirsi immediatamente scorgendo un estraneo. Poi il signor Wilkins, più pulito, ordinato, ben vestito e pettinato che mai, quindi la signora Wilkins che entrando si allacciava frettolosamente qualcosa e poi nessun altro. Lady Caroline era in ritardo. Dov'era? Aveva sentito il gong, non avrebbero dovuto suonarlo di nuovo e se non fosse venuta a cena. Briggs si sentì raggelare. «Presentami», disse Frederick, mentre la signora Fisher entrava, toccando il gomito di Rose. «Mio marito», disse Rose, tenendolo per mano con uno sguardo intenso. «Questo», pensò la signora Fisher, «dovrebbe essere l'ultimo dei mariti, a meno che Lady Caroline non ne tiri fuori uno dalla manica». Ma lo salutò con gentilezza perché lui sembrava proprio un marito, non come quegli uomini che vanno in giro all'estero fingendo di essere i mariti quando non lo sono, e disse che immaginava fosse venuto per accompagnare sua moglie a casa alla fine del mese e osservò che ora la casa sarebbe stata al completo. Così, aggiunse sorridendo a Briggs, «alla fine avremo speso bene il nostro denaro». Briggs sorrise meccanicamente perché riusciva appena ad accorgersi che qualcuno stava scherzando con lui, ma non l'aveva sentita e non la guardò. Non solo i suoi occhi erano fissi sulla porta, ma tutto il suo corpo era concentrato su di essa.